Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Ancora furti in abitazioni, questa volta la zona finita nel mirino dei ladri e via Pennini dove la scorsa notte si sono vissute ore decisamente movimentate, culminate in seguimento della squadra volanti alla banda di ladri. Gli agenti sono riusciti anche a recuperare parte dell'area furtiva, soprattutto monili d'oro e oggetti preziosi. L'allarme scattato nella tarda serata di ieri in seguito ad un furto portato a termine all'interno di una villetta. Le abitazioni presi di mira in realtà erano tre, comprese quella di Jason Rich, giocatore della Scandone. L'arrivo di una pattuglia della squadra volanti ha però disturbato i malviventi che non hanno potuto portare al termine completamente il proprio piano e si sono dati alla fuga. Durante l'inseguimento hanno abbandonato il bottino lungo il tragitto fino a raggiungere l'auto che li attendeva per proseguire la fuga. Sono state recuperate collane, spille, bracciali, orecchini e altri monili preziosi. Dopo un periodo di relativa calma il fenomeno dei furti in città si ripresenta in maniera preoccupante. I ladri nel capoluogo sono tornati in azione da qualche settimana e più precisamente nel periodo di Natale. Contrada Arche, Contrada Sant'Eustache e Via Pennini sono le strade più colpite. Quando accaduto nelle ultime ore l'ennesimo furto in una zona dove i residenti sono ormai esasperati, la gente ha paura e davvero non sa più cosa fare per difendersi. In alcuni casi non sono abbassati gli antifurti, gli infissi in metallo e altri accorgimenti adottati per scongiurare i furti. Ad agire sono persone esperte che una volta in casa in pochi minuti riescono a far razzia di oggetti preziosi per poi fuggire, lasciandosi alle spalle famiglie sconvolte per aver subito un'atroce violenza privata.